ciao benvenuta a questa introduzione di tutta una serie di video che ho preparato per te e che preparerò durante tutto l'anno dal titolo quando il travel coaching incontra la spiritualità celtica come molti di voi ormai sanno io vivo in Irlanda e da sempre sono un'appassionata appunto di mondo celtico ma soprattutto della spiritualità la spiritualità è qualcosa che spesso e volentieri rimane quasi in uno spazio immaginativo la spiritualità però per poter essere davvero vissuta e farla entrare nel nostro quotidiano ha bisogno di radici ed è qui che il travel coaching mi aiuta a portare tutto quelle che sono le informazioni che ricevo quando sono qui da quando sono qui o anche che ho studiato negli anni trasformandole in qualcosa di pratico pragmatico appunto che possa mettere radici anche nella tua vita quotidiana e nella tua realtà quindi ti invito a continuare a guardare il prossimo video e soprattutto continuare a seguirmi sia sulla pagina facebook travel coaching a iscriverti al gruppo viaggiare in travel coaching e perché no magari un giorno venire in Irlanda con me